Ciao raga, nuovo format, video particolare, lettura in blind, degli spoiler del 1044, quindi video in diretta che poi posto. Semplice, vediamo un po'. Il titolo di One Piece 1044 sarà Il guerriero della liberazione. Ci sta. La cover vede Hoven lasciare il libro con all'interno i membri della germa, ai propri fratelli che si preparano a studiarne i corpi. Ottima cosa. Il capitolo inizia con Rufy e in sottofondo i tamburi della liberazione. Rufy, che cos'è successo? Come posso alzarmi se ho perso? All'improvviso mi sento molto divertito. Dal suo corpo sembrano uscire dei fulmini neri. Attenzione, lo stesso Rufy è sorpreso, quindi un qualcosa che neanche lui riesce a capacitarsi, quindi un qualcosa sconosciuto al suo corpo. Momo chiede a Zunisha se la presenza che ha avvertito sia quella di Rufy. Vediamo alcuni alleati di Rufy come Sanji, che inizia a ridere, Kid e Marco, che avvertono nuovamente la presenza di Cappello di Paglia. Marco lo comunica a Nami e Otama. Ok, quindi quella storia di Lowe che aveva sentito la voce è semplicemente un archi della percezione parecchio avanzato, penso. Ci spostiamo a Mary Joes. Nella stanza dell'autorità i cinque astri stanno ancora discutendo della situazione di Wano. Uno di essi era ammalicato per aver perso uno dei migliori agenti della CP0. Un altro gli risponde che era un male necessario per evitare dei problemi peggiori in futuro. Ok, quindi i cinque astri sono pienamente a conoscenza adesso, in questo momento, di che cosa stia succedendo. Poi, se effettivamente parlano del tizio col cappello che è stato steso da Kaido, o parlano dell'agente ucciso da Izzo, non lo so. Uno esclama. Il governo mondiale ha provato a ottenere il Gomu Gomu in ogni era, ma in qualche modo è sempre svanito. E ormai sono passati 800 anni. Gorose due. È come se il frutto cercasse di scappare. Gorosei tre. In realtà è possibile. Da quello che sappiamo, gli Zoan hanno una volontà tutta loro. Quel frutto al nome di un dio. L'altro nome del Gomu Gomu è... Gorosei quattro. Omo Omo. Zozo mitologico. Modello Nika. Boom. Boom. Perché? Attenzione. Attenzione qua perché... Pazzesco. Allora. Rileggo un attimo. Allora, questi... Cioè, i draghi celesti, quindi i cinque astri, dicono che effettivamente stanno cercando da sempre, da 800 anni, di acciuffare sto Gomu Gomu. Poi, vediamo che appunto dice, sembra quasi che cerca di scappare. E l'altro gli dice, sì, perché gli Zoan hanno una vita propria, un'anima propria. E qua sta a significare quel ragionamento del diavolo, del demon all'interno del frutto. Potrebbe anche essere. Poi, se no degli Zoan, effettivamente sono rappresentazioni di animali che potrebbero effettivamente avere una loro volontà. Poi dice quel frutto al nome di un dio, che non è il Gomu Gomu, ma è lo zozo mitologico modello Nika. Quindi il famoso Sangud Nika che libererà i mondi. E io qua sono contento, stranito, ma contento, per due motivi. Il primo è che ad ottobre feci quel video famoso, famoso, tra virgolette, per chi l'ha visto, in cui mettero in dubbio la natura da paramiscia del Gomu Gomu, che c'è troppo strano, ha delle attivazioni troppo strane. Secondo me è ibridato, un qualcuno né un frutto paramiscia, o se un paramiscia ha avuto qualche ibridazione nel passato. E qua, diciamo, mi sto spingendo verso la ragione di quel video. Allo stesso tempo, ma qua non c'è da prendersi i meriti, era una semplice logica, se i Gorosei parlavano nei tempi del capitolo in cui parlavano di un frutto a cui è stato cambiato il nome, effettivamente, se era il Gomu Gomu, la cosa più logica era Nika Nika no Mi, perché non potrebbe essere Joy Boy no Mi, ma Nika Nika no Mi ci sta alla grande, e lo stesso Nika Nika potrebbe essere Joy Boy stesso. Poi, vediamo quindi la nuova silhouette di Rufi al chiaro di luna, è identica a quella di Nika vista in passato, quella lì famosa. Rufi sta ridendo, mentre il suono di tamburi continua. Il suo corpo ha le proprietà della gomma, attenzione, può combattere come vuole e far sorridere le persone ovunque vada. Il famoso potere di Lufi, quindi non è neanche della volontà della D, ma è il potere del frutto, quello che è pericolosissimo, di cui parlava anche Mioc, di fare tutti amici. Il suo nome è Nika, il guerriero della liberazione. Il risveglio darà la gomma più forza e libertà. Libertà. Si dice che sia il potere più ridicolo del mondo. Ridicolo? Ridicolo? Io non penso che sia ridicolo sto potere, ragazzi. Cosa c'è di ridicolo? Nel farsi tutti amici, lo dice lo stesso Mioc, Il potere più pericoloso al mondo. Darà il risveglio più forza e più libertà alla gomma. Quindi quel ragionamento del Kaido non capiva perché riuscesse a modellare, a far arrivare la gomma così tanto da tante proiezioni, da tante direzioni. E i stessi gear, i stessi gear sono particolari. E qua, porca miseria, mi ritrovo su quel ragionamento del dubbio. Ma la gomma non ha queste proprietà scientifiche. Quello che fa Luffy non è della vera gomma. È un qualcosa di un po' più particolare e ibridato. Eccolo qua. Finalmente, eccolo qua. Non poterò immaginare ad ottobre che c'entrasse Nika. Non poterò mai. Però, sì, cavolo. Ok, continuiamo. Spostiamo nel castello di Onigashima con Orochi e Iori. Il primo tenta di convincere la donna a liberarlo, dicendo che anche lui apprezzava Oden, ma è stato manipolato da Kaido. Bah, non ci credo. Iori ricorda ad Orochi ciò che ha dovuto subire il padre. Ora vuole solo mantenere la promessa che fece anni prima per liberare Uano. Vedremo un flashback tra Oden e Iori, classico lui, giustamente da bambina. Iori si toglie la maschera e urla il suo nome. Ordina Orochi di tacere, e che è una vergogna che uno come lui ricopre la posizione di Shogun. Vediamo arrivare un piccolo casembro di Kajiro. Orochi ordina di aiutarlo per colpire Iori, ma il casembro dice di aver fallito e si dirige verso lo Shogun, che inizia a bruciare sotto lo sguardo di Iori, mentre quest'ultima inizia a piangere. Ok. Orochi implora aiuto. Iori gli risponde che il casato Kozuki mantiene sempre le promesse. La scena torna da Rufi. Mi sento come se potessi fare tutto quello che voglio. Il suono del mio battito cardiaco è così divertente. Questo è il mio massimo potenziale, il Gear Fifth. Boom! Cos'è? Risveglio o il Gear? Il Gear è risveglio? Ok. Al live floor, in cui si trova Kaido, vediamo arrivare un raggio di Aki del Re, che mette KO molti dei sottoposti di Kaido. Quest'ultimo si chiede cosa stia accadendo, mentre dei fulmini neri attraversano il tetto. Vediamo il tetto rompersi e un enorme braccio sbucare fuori dal buco. Rufi afferra Kaido senza difficoltà e Kid e Chopper sono sorpresi da quanto visto. Ok. Kaido, i cui occhi escono dalle orbite come un cartone animato, viene portato sul tetto e Rufi, ingingattito il proprio corpo, inizia a far rotare per poi sbatterlo più volte a terra. Dalla testa di Kaido escono delle stelle, sempre in maniera simile al cartone. Ok. Ok. E Rufi continua a ridere, mentre Kaido, sorpreso, esclama Cappello di paia! Sei vivo! Per fortuna! Per fortuna! Che cazzo! A quel punto scaglie un buono Brett, verso l'avversario. Rufi, tornato alla sua forma normale, smette di ridere e rimane sorpreso. Stavano suonando. Anche i suoi occhi escono dalle orbite, quasi come quelli di Jim Carrey in The Mask. Vabbè, questo è il sito che ha messo... Ok. Rufi afferra un pezzo di terreno e lo trasforma in gomma. Risveglio. Cioè, ragazzi, risveglio, gear fifth, risveglio. Fusi, insieme. Boom. Ok. Riuscendo a trattenere il colpo, ripassa la sua forma muscolosa e riesce a colpire l'imperatore con lo stesso colpo. Ok. Vediamo quindi la sua nuova forma, fisicamente identico a prima, mentre i capelli sembrano un po' in fiamme. Le sopracciglia che sono curve come quelle di Sanji e le pupille degli occhi. Ok. Non si capisce molto bene. Il suo corpo produce vapore dal collo e dalle ascelle, in maniera simile a quella del Gear fourth. Ma la maglia è bianca e non più nera. Rufi continua a ridere mentre Kaido si scusa. Mi dispiace per quanto accaduto prima, sono stato stupido, non volevo vincere in una maniera simile. Pa, Kaido. Spettacolare. Kaido, spettacolare. Non ci credo. L'imperatore è ora più determinato che mai, mentre il suo volto si può notare un sorriso. Finalmente Kaido è felice, ragazzi. Rufi risponde, non parlarne, è ora di finire tutto questo. Niente pausa, prossima settimana. Cazzarola. Che bello. Bellissimo. Cioè, la prima volta che mi succede leggere i spoiler così, ed è emozionante, sono sincero. Allora, bellissimo, spettacolare. Qualche dubbio rimane, vediamo bene di capire perché Risveglio, Gear fifth, Nika, effettivamente l'origine vera è uno Zoan, ma tipo modello Buddha di Sengoku, o è un'ibridazione effettivamente. Quello lo vedremo. L'unico dubbio che mi permane, e che ovviamente leggendo adesso sul momento non ce ne sto ancora neanche pensando, qual è? I Gorosei lo sapevano quindi da prima o è stato Shanks a dirglielo? Perché qua cambia tutto. Se lo sapevano già da prima, Shanks magari si è mandato a parlargli di Teach. Se non lo sapevano e gliel'ha detto Shanks, Shanks infame, per te solo lame. Ok ragazzi, sta già durando troppo il video, è la prima volta che lo faccio così, però mi sembra molto divertente e bello. Niente, ci vediamo al capitolo.